carissimi oggi parliamo dei angeli meraviglioso nel mondo abbiamo l'universo visibile alberi cielo frutta case la terra cose che si possono toccare vedere udire ma c'è anche l'universo invisibile e l'universo invisibile è molto più ampio più ricco più immenso dell'universo visibile e gli angeli sono parte dell'universo invisibile c'è però una differenza fra invisibile e irreale si può essere invisibili e molto reali più reali degli alberi del giardino eccetera gli angeli fanno parte di questo mondo invisibile assolutamente reale ed ignorarli è un grosso errore ovviamente non li ignoreremo e cercheremo di scoprire insieme chi sono cosa fanno perché ci sono accanto perché ci devono guidare quale è il loro ruolo la loro missione come sono stati creati e quali sono le loro particolarità allora per cominciare vorrei raccontarvi una storia per coinvolgervi con loro in una maniera pratica e reale una storia meravigliosa accaduta ad alcuni buoni amici di medjugorje che conoscono molto bene i loro angeli custodi erano stati a monaco per qualche giorno e tornavano a medjugorje in auto una di loro senti il forte desiderio di andare a trovare un sersadote che conosceva lei bene e che viveva a verona ebbene da un punto di vista concreto era poco saggio fare una cosa simile questa deviazione avrebbe allungato il viaggio in auto di cinque ore e questo prete era anche gravemente malato costretto a letto e non riceveva visite da mesi inoltre il sersadote abitava un appartamento a tiguo al duomo di verona in cui c'era un portone d'ingresso privato e un secondo portone di solito chiuso a chiave dato che viaggiavano di domenica sapeva che non ci sarebbe stato nessuno ad aprire le porte c'erano tre muri da attraversare letteralmente un po troppo tuttavia questo sacerdote era eccezionale non solo era un santo ma era pieno di doni era padre bozio bastava il suo sguardo per comunicare in modo straordinario la presenza di dio il desiderio di ricevere la sua decisero di cercare di telefonarli prima ma trovarono solo la segreteria telefonica che diceva padre bozio non riceve visitatori ma risponderà al telefono fra le 4 e le 5 bene considerando il programma del viaggio questo piccolo lasso di tempo era troppo poco per loro da un punto di vista umano l'impresa era destinata a a fallire prima di incominciare allora questo piccolo gruppo di credenti decise di mettere al lavoro gli angeli custodi prima chiesero loro di andare da padre bozio domandandoli se potevano andare a trovarlo e poi di dare loro la sua risposta nel loro cuore proprio dopo aver pregato per qualche minuto una grande gioia li riempi perciò continuarono a dirigersi in auto verso verona e ogni mezz'ora pregavano e mandavano gli angeli custodi da padre bozio per avvertirlo del loro arrivo e per fare in modo di poter entrare quando arrivarono il primo portone era spalancato perciò entrarono parcheggiarono la macchina e poi scoprirono che anche il portone dell'appartamento era spalancato wow che bella sensazione iniziarono a salire le scale che portavano al piano di padre bozio e che cosa videro padre bozio stesso era in piedi sull'ultimo gradino della scala e li stava aspettando disse eccovi qui voi che mi avete mandato gli angeli custodi ogni mezz'ora venite voglio darvi una benedizione vedete questa è una delle tante storie sugli angeli custodi i vigenti di meggiugorie ci dicono che quando la madonna appare soprattutto nelle feste come il natale la pasqua ogni santi o l'assunzione spesso lei arriva con alcuni angeli e talvolta è circondata dagli angeli quando la madonna è apparsa sulla montagna sul krijevat per esempio alcuni veggenti ci hanno detto che la montagna era coperta di angeli proprio incredibile maria è la regina degli angeli e quando viaggia ha il suo popolo con sé per dire per questo è con gli angeli quando viene a meggiugorie quando chiediamo che aspetto hanno i vigenti ci dicono che gli angeli sembrano bambini piccoli con le ali e tutti guardano la loro regina sono come affascinati dalla loro regina e maria è la regina degli angeli e questo fatto è molto importante sono stato molto contenta di sapere che gli angeli sono affascinati dalla madonna quando sono attorno a lei e vedete la ammirano e imitano ciò che fa se lei è molto felice se da un messaggio molto molto gioioso saranno felici anche loro con lei e manifestarono la loro felicità muovendo le ali e maggiore è la durata dell'apparizione più sono felici talvolta sono così entusiasti delle loro della loro regina che iniziano a fare molto rumore con le ali invece quando la madonna è triste vedete ha molto ha molte ragioni per essere triste allora sono estremamente turbati esprimono molto la loro tristezza sono proprio come lei vedete imitano tutto ciò che fa e hanno una devozione totale per lei certo la realtà degli angeli non è nuova non lo conosciamo solo attraverso Medjugorje è stata già espressa nella Bibbia nella storia del popolo di Dio nella storia dell'umanità perfino nella storia della creazione quando leggiamo la Genesi nella Bibbia il primo libro della Bibbia gli angeli sono già presenti nel giardino dell'Eden Dio è il creatore degli angeli e nella scrittura vediamo come gli angeli servono Dio i moltissimi passi nella scrittura vediamo che gli angeli servono Dio nell'antico testamento Dio invia gli angeli a seguire a suoi ordini a procurare certe cose al suo popolo a dare messaggi a guidare il popolo ci sono apparizioni dei angeli in tutta la Bibbia avete visto questa è la normale vita con Dio uno dei passi che amo di più nella Bibbia nel libro dell'Esodo è quando Dio diede a Mosè il capo del suo popolo un angelo speciale solo per lui e gli disse così io stesso invierò un angelo davanti a te per proteggerti mentre cammini e guidarti al luogo che ho preparato allora ascoltate bene rispettalo e ubbidisci a ogni cosa che ti dice fidandoti di lui perché non perdonerebbe una simile colpa perché il mio nome è in lui se ascolti con attenzione alla sua voce e fai tutto quello che io gli dico io sarò nemico dei tuoi nemici il mio angelo ti precederà e ti guiderà vi ricordate proprio all'inizio della vita di Gesù vediamo l'arcangelo Gabriele che parla a Maria del bimbo che lei sta per concepire e in seguito vediamo un angelo a Betleem che dà la buona notizia ai pastori di notte poi un esercito di angeli partecipare l'ode di Dio quando Gesù è andato nel deserto dopo il suo battesimo e ha passato 40 giorni a digiunare e a pregare vediamo anche lì gli angeli che arrivano e lo servono alla fine e Gesù stesso quando parla dei bambini dice non rimproverate questi bambini perché i loro angeli contemplano continuamente il volto del padre mio nel cielo e sapete una cosa ognuno dei nostri angeli custodi contempla il volto di Dio allora questo passo della scrittura ci aiuta a capire e a credere che tutti noi abbiamo un angelo custode e siate felici di questo è un grande dono un veramente grande dono tutti noi abbiamo un angelo custode che lo vogliate o no ne avete uno anche voi è così oggi purtroppo a molte persone non interessa questa realtà o non l'hanno ancora scoperta in realtà non è un optional una dottrina della chiesa è parte della nostra fede i cattolici credono all'esistenza dei angeli e noi crediamo che ci sia stato dato un angelo custode voglio adesso esaminare questo piccolo paragrafo del catechismo della chiesa cattolica di invitare tutti voi ad avere questo libro a casa e a leggerlo regolarmente perché lì c'è quello che dobbiamo credere come cattolici è chiaro ecco quindi un breve paragrafo sugli angeli custodi sa degli esseri spirituali incorporei che la sacra scrittura chiama abitualmente angeli è una verità di fede la testimonianza della scrittura è tanto chiara come l'unanimità della tradizione come vi ho detto non è un optional è nel catechismo e dobbiamo proprio crederci ebbene adesso vi parlerò di un mio amico da parigi molti anni fa quando era seminarista ebbe la grande opportunità di andare a confessarsi da padre pio in san giovanni rotondo durante la confessione il padre pio li chiese preghi il tuo angelo custode e il mio amico rispose compiaciuto ah ma no naturalmente no non credo agli angeli custodi e sapete cosa è successo padre pio li dette un schiaffo sul viso ma proprio dette un schiaffo lui era così vedete prendeva a schiaffi certe persone poteva essere così sgarbato ma è un bene essere presi a schiaffi perché si reagisce padre pio li disse stupido lo vedo qui lo vedo qui accanto a te ve lo assicuro quel giorno il seminarista fece amicizia con il suo angelo custode è stata una svolta nella sua vita vedete che cosa può fare un schiaffo ispirato adesso vi voglio leggere un altro passo sugli angeli custodi che fa parte della nostra fede è tratto dal catechismo della chiesa cattolica paragrafo 336 ascoltate dal suo inizio fino all'ora della morte la vita umana è circondata dalla loro protezione e dalla loro intercessione ogni fedele ha al proprio fianco un angelo come protettore e pastore per condurlo alla vita fin da qua giù la vita cristiana partecipa nella fede alla beata comunità degli angeli e degli uomini uniti in dio come cattolici crediamo quindi che al momento del concepimento dio assegna a tutti noi un angelo perché possa guidarsi tutta la vita adesso vi racconterò la mia piccola storia personale perché amo gli angeli custodi quando ero bambina i miei genitori mi hanno parlato degli angeli custodi perciò avevo diciamo familiarità con il mio angelo custode gli ho dato perfino un nome per essere sicura di andare d'accordo con lui più facilmente l'ho chiamato raffaele perché il nome dell'arcangelo e ho pensato che sarebbe stato davvero un bel nome avevo l'abitudine di trattarlo come un compagno di chiedergli aiuto di mandarlo a fare una certa cosa o l'altra cosa e così era molto efficiente è stato sempre sempre molto molto utile a me e mi ha protetto moltissimo non sarei più al mondo senza di lui posso dire quando sono entrata nella comunità delle beatitudine mi sono ritrovata nella nostra piccola fondazione a nazareth eravano a quello momento solo quattro suore con due fratti in una piccola casa un po fuori del paese condividevo con le sorelle le mie storie sull'angelo custode e fra loro c'era una suora con un retroterra protestante che non voleva pregare gli angeli anche se ormai era cattolica da poco ascoltava tutte le mie storie ma pensava ma che cos'è questa storia come è possibile pregare gli angeli custodi ma le storie erano così interessanti che pensava anche e se tutto questo fosse vero perciò fece un esperimento eccolo sapeva che il mio angelo custode si chiamava raffaele perciò gli disse se sei davvero bravo come dice suore manuel se sai davvero fare dei lavoretti se puoi davvero aiutarci voglio metterti alla prova e l'esperimento era questo oggi per favore di a suore manuel questa cosa che lei deve sapere se lei mi dice che ha ricevuto questo messaggio nella preghiera ti crederò altrimenti scordatelo questo è accaduto di mattina naturalmente non sapevo che aveva fatto questo esperimento e sono andata al lavoro lavoravo in quelli giorni in un espedale mezza giornata e sono ritornata all'ora di pranzo ricordo che quel giorno ero un po in ritardo perciò quando ho aperto la porta della sala di pranzo le suore erano già a tavola e prima ancora di salutarle ho detto indovinate che cosa mi ha detto oggi il signore nella preghiera e ho detto esattamente parola per parola il messaggio che lei aveva dato al mio angelo custode incredibile perciò questa suora è abbassato il capo sulla minestra non ha detto niente perché doveva riflettere era scioccata proprio era molto colpita non ha detto niente quel giorno ma alcuni giorni dopo mi ha raccontato tutta la storia e ha detto da quel giorno in poi suore manuel ho iniziato a pregare il mio angelo custode il tuo angelo custode e gli angeli custodi degli altri ed era molto entusiasta divenne la persona che secondo me ha impegnato gli angeli custodi meglio di chiunque altro vedete alcuni direbbero non pregherò l'angelo custode perché prego solo Gesù solo Gesù è Dio non pregherò le creature non voglio nessuno fra Gesù e me mi rivolgerò direttamente a Gesù va benissimo rivolgersi a direttamente a Gesù va bene fin qui va benissimo ma cosa accade se escludete quelli che lui stesso vi ha dato come amici lo offendete semplicemente lo rattristate supponiamo che abbiate un bel fidanzato e lo amiate e questo fidanzato ha una madre un padre a fratelli e sorelle e amici perciò entrate in casa sua e chiedete dov'è il mio fidanzato sua madre apre la porta per voi ma non ve ne importa beh è solo la mamma poi arriva il fratello non vi interessa ma dove il mio fidanzato voglio rivolgermi direttamente a lui non mi interessa questa gente voglio solo lui non pensate allora che lui sarà adolorato e dirà permittimi di presentarti mia madre fa parte della mia vita e mi conosce e lei mi conosce molto bene perciò come fidanzato se vuoi vedermi se vuoi sapere chi sono davvero vai da lei ti racconterà delle storie sulla mia infanzia mi conoscerai meglio e spero che mi amerai di più questo è mio fratello ha una grande influenza su di me permettimi di presentartelo questa è la mia sorella e questa è la mia famiglia e sai cosa io amo ogni membro della mia famiglia perciò se vuoi amarmi davvero condividi quest'amore che provo per la mia famiglia sono brave persone non ti faranno del male fanno parte della mia famiglia sono i miei fratelli diventarono parte della tua famiglia vedete Gesù ha dato un angelo custode a ciascuno di noi perciò se vuoi far piacere a Gesù gli farai piacere pregando gli angeli gli angeli appartengono a Gesù lui è il re degli angeli quindi Gesù è molto molto felice quando preghiamo gli angeli è il suo dono voglio adesso leggervi qualche passo della scrittura sui angeli per mostrarvi che Gesù non solo è il re degli angeli ma il creatore degli angeli e che essi sono in sintonia con lui gli appartengono Cristo è il centro del mondo angelico sono i suoi angeli in Matteo 25 32 per esempio quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti nel giorno del giudizio quando Cristo ritornerà sulla terra sarà circondato da migliaia di angeli e sappiamo che gli angeli sono stati creati da lui e per lui poiché in lui tutte le cose sono state create in cielo e sulla terra visibili e invisibili che si tratti dei troni delle dominazioni dei principati e o delle potesta appartengono a lui ancora di più perché li ha resi messaggeri del suo piano di salvezza gli angeli sono stati presenti durante tutta la creazione e durante tutta la storia dell'uomo e saranno eternamente presenti con noi il loro compito e la loro missione è quella di aiutarci e più li preghiamo più manifestano il loro aiuto questo è molto evidente adesso voglio raccontarvi un'altra storia ero in gerusalemme con la mia comunità eravamo in sei e siamo stati invitati a offrire una testimonianza in un convento di clarisse davanti ad alcuni amici radunati lì dalle suore c'era infatti un gruppo di circa 50 persone che si erano riunite per ascoltare le nostre testimonianze purtroppo erano molto agitate e parlavano ad alta voce quando siamo entrati nella stanza e abbiamo sentito tutto quel rumore abbiamo capito che sarebbe stato molto difficile parlare perché non era lo spirito giusto per preparare i cuori ad ascoltare un messaggio perciò eravamo un po tristi non si può essere aperti a dio nel chiasso ma la suora di cui ho parlato prima si chiamava silvi mi ha detto senti suore manuel usiamo gli angeli custodi mettiamoli al lavoro mi ha portato in un angolo e mi ha detto vieni vieni poi ha detto sai cosa faremo un patto con gli angeli custodi li raduneremo tutti pregheremo tutti quelli che sono presenti qui 50 angeli custodi pensaci e nella preghiera chiederemo loro per favore dite al vostro pupiglio di stare zitti in silenzio e fate in modo che stia in silenzio ebbene non crederete a quello che è successo quella sera un silenzio incredibile è calato immediatamente nella stanza tutti hanno interrotto la conversazione là dove si trovavano incredibile è stato fenomenale perciò anche noi siamo rimasti in silenzio scioccati dall'efficienza degli angeli incredibile allora in questo silenzio abbiamo pregato lo spirito santo e abbiamo iniziato a trasmettere la nostra testimonianza e la gente ha ascoltato con molta attenzione vedete quella è stata un'esperienza incredibile per noi abbiamo visto l'efficienza e il potere degli angeli custodi eravamo loro così riconoscenti vedete è bellissimo vivere con dio ed il suo popolo qualche volta si riesce a toccare veramente questo mondo invisibile un'altra volta ricordo di essere stata in un certo paese e sapevo che lì la gente era un po diciamo un po seria di solito a causa della sua mentalità ma era una serietà in qualche modo pesante per me vedete quando parlo davanti al pubblico a volte mi piace fare battute e sapevo che queste persone non avrebbero riso per le mie battute e questo è un po pesante i miei ascoltatori erano radunati in una grande stanza in una bazia erano 2000 allora prima di iniziare il mio discorso ho pensato che cosa posso fare per rendere un po più gioiosa e leggera l'atmosfera in modo che il mio messaggio tocchi i cuori poi ho avuto una idea ricordavo la nascita di gesù come gli angeli a betleemme hanno parlato ai pastori della nascita del signore del salvatore e come migliaia di altri angeli si sono uniti a loro per lodare e cantare l'altissimo ed è stata una tale gioia a quello momento perciò ho pensato raduniamo gli angeli di betleemme allora li ho pregati in modo che si mettessero in contatto con le persone radunate lì forse allora i loro cuori si sarebbero aperti portano leggeressa gioia e un'atmosfera positiva di gioia lode e apertura del cuore perciò li ho pregati e ho iniziato a parlare ma non appena ho iniziato a parlare le persone hanno iniziato a ridere erano molto molto felici molto gioiose e mentre proseguivo il discorso ridevano a tal punto che ho dovuto dire agli angeli di betleemme e calmatevi un po perché devo comunque parlare anche se passano così tanto tempo a ridere ed è stato incredibile le persone erano davvero aperte e gioiose c'era un'atmosfera incredibile di amicizia e apertura del cuore ero così felice ma vero ancora una volta in quella sera gli angeli fecero miracoli quindi in qualsiasi occasione coinvolgete gli angeli non lasciateli disoccupati la parola angelo deriva dalla missione che hanno gli angeli in ebraico il termine angelo equivale a malach e la radice malar significa inviare sapete quando inviate un messaggio a qualcuno che è lontano quest'uomo si chiama malach messaggero inviato perciò gli angeli sono messaggeri ed è questo il motivo per cui possiamo usarli per questo compito tutti i santi hanno impiegato gli angeli li hanno impiegati moltissimo per esempio papà pio 11 giovanni 23 padre pio santa fostina ci sono tantissimi santi che hanno usato gli angeli e qui vi farò un esempio in particolare padre pio era un uomo molto molto santo un uomo straordinario lo sapete bene per questa ragione aveva molti fili spirituali e questi fili spirituali li scrivevano delle lettere all'epoca non c'era la posta elettronica esprimevano i loro problemi le loro domande rivelavano la loro anima e padre pio era come ognuno di noi aveva solo 24 ore al giorno e passava lui ore e ore nel confezionale perciò non poteva assolutamente scrivere risposte risposte proprio adeguate a tutte queste persone riceveva migliaia di lettere che cosa faceva allora aveva un rapporto molto speciale con il suo angelo custode qualche volta lo vedeva e lo faceva lavorare molto e così più chiedi aiuto al tuo angelo custode più si manifesta in maniera potente così padre pio ha trovato il miglior mondo il miglior modo possibile chiedeva semplicemente ai suoi angeli custodi di rispondere alle lettere e loro lo facevano diceva loro ebbene vedete questa pila di lettere fate in modo che ricevano una risposta così gli angeli custodi avevano l'incarico di rispondere alle lettere gli angeli custodi riescono a leggere i pensieri ci conoscono molto profondamente perciò sapevano esattamente che cosa avrebbe risposto padre pio stesso sapevano che cosa avrebbe pensato padre pio nel rispondere a quelle persone bisognose di grazia perciò posso dire se uno di voi ha ricevuto qualche lettera da padre pio non sono sicura che l'abbia scritta personalmente potrebbe averla scritta all'angelo custode una cosa che tutti noi dobbiamo sapere è che a tutti viene assegnato un angelo custode per la vita su questa terra e anche per l'eternità cioè quando moriremo il nostro angelo custode non sarà assegnato ad un'altra persona ma rimanerà sempre con noi per l'eternità è il nostro amico speciale per sempre e non crediate che abbiamo un solo angelo abbiamo un angelo custode ma abbiamo altri angeli vi faccio un esempio se mi sposo e fondo una famiglia dio assegnerà un angelo alla mia famiglia e sarà l'angelo della famiglia se divento un sacerdote dio assegnerà un angelo speciale per il mio sacerdozio perché sia santo se divento un vescovo mi verrà assegnato un altro angelo per il mio essere vescovo se divento papa mi verrà assegnato un angelo per essere un santo pontefice se sono un medico ci sono angeli speciali per i dottori se sono un artista un pittore un infermiere avrò un angelo assegnatomi per la mia professione se appartengo ad una comunità o da un carmelo c'è un angelo per la comunità o per il carmelo se vivo in una città c'è un angelo assegnato a quella città al quale posso rivolgermi vi ricordate forse quando l'angelo apparve ai pastorelli di fatima in portogallo quelli che videro la madonna l'angelo disse loro io sono l'angelo del portogallo e lì era l'angelo speciale per il portogallo e noi sappiamo che l'angelo speciale del portogallo è san michele arcangelo così se io vedo una cosa brutta avvenire nella mia città satanismo troppi suicidi cattiva gestione politica ma la vita di ogni genere bene abbiamo l'angelo custodi di quella città che posso invocare e pregare posso farmelo amico e lui farà in modo di migliorare il livello di vita della città dio ha creato la natura umana e la natura angelica abbiamo noi una natura umana abbiamo uno spirito e un corpo la natura angelica è puro spirito gli angeli non hanno un corpo ciò significa che hanno una libertà incredibile perché non hanno la limitazione di spazio e di tempo che abbiamo noi perché dunque a volte li vediamo in certe immagini come dei bambini piccoli e con le ali questo è solo un corpo simbolico in modo che possiamo individuarli ma in realtà non hanno un corpo le ali sono come un simbolo per mostrare che possono volare molto rapidamente perché sono puro spirito naturalmente non hanno le ali ebbene sappiamo da san paolo che l'uomo è superiore agli angeli perché non è perché siamo più intelligenti in realtà gli angeli sono molto più intelligenti di noi è solo perché Gesù ha assunto la natura umana non ha assunto la natura angelica perciò Gesù ha dato alla natura umana una gloria che la natura angelica non possiede per questo siamo superiori agli angeli nella creazione di dio ma non dimenticare che noi siamo molto deboli il nostro corpo ci rende ciechi e pesanti e possiamo ammalarci essere stanchi sfiniti e infine morire sperimentiamo tutte queste cose il peso nel nostro corpo ci fa vivere in una in una certa tenebra invece gli angeli vivono nella piena luce di dio sono molto molto intelligenti ebbene l'angelo in quanto essere spirituale ha la capacità di raggiungerci all'interno del nostro essere in maniera molto profonda e di influenzarci ovviamente solo dio può accedere a quella parte più profonda del nostro essere dove abbiamo la camera nuziale ma attorno a questa esistono delle strati in superficie o camere di noi stessi e gli angeli possono accedervi i nostri pensieri ad esempio la volontà l'immaginazione la memoria ed anche il nostro corpo fisico dovremmo essere coscienti di questo in modo da poter fare amicizia con il nostro angelo in maniera speciale per esempio se siete stanchi allora pregate il vostro angelo custode e se è nei piani di dio allora lui vi può liberare della vostra stanchezza ad esempio se sei in una situazione di paura prega il tuo angelo può fungere da tua guarda di corpo i vip hanno guardie del corpo che però sono esseri umani possono fallire gli angeli sono guardie del corpo molto migliori anche se non li vediamo e questo può essere un vantaggio grande nel combattimento con il nemico gli angeli sono più potenti degli esseri umani e sono invincibili sono più veloci più furbi e conoscono i piani del nostro nemico di satana gli angeli possono anche aiutarci a compiere a fare delle cose ecco in esempio forse conoscete la piccola suora del carmelo dal nome maria di betleemme vissuta in israele nel nel diciannovesimo secolo poco prima di santa teresina del bambino gesù pur essendo molto malata in convento le hanno chiesto di fare la pulizia di una enorme sala che doveva essere utilizzata in brevissimo tempo questo lavoro era praticamente impossibile per lei era troppo malata e non c'era abbastanza tempo per farlo ma lei ma lei accetta ugualmente il lavoro perché era molto santa dopo poco tempo un'altra suora entrò nella sala e vide che il lavoro era già stato fatto e fu molto sorpresa e chiede alla piccola maria come hai fatto lei rispose semplicemente i bambini mi hanno aiutato e questo era il suo modo di esprimersi era molto semplice era analfabeta e chiamava gli angeli i bambini era completamente a suo agio con i bambini con gli angeli quello che effettivamente era accaduto era che gli angeli avevano pulito per lei gli angeli hanno accesso al nostro sentire e anche alla nostra sessualità quando qualcuno ha qualche disturbo nel campo dell'attrazione sessuale un disturbo che non è secondo la volontà di Dio all'inizio della creazione per esempio un'attrazione verso lo stesso sesso è molto utile pregare l'angelo custode per essere sanati ricordo un sacerdote che mi ha confidato una volta che quando era stato giovane adesso è anziano e santo aveva avuto un'attrazione incredibile per una donna e lei era molto carina e si confessava qualche volta da lui lui era così tentato che faceva in modo di avere sempre un tavolo fra lui e la donna quando doveva parlarle era per lui una grande sofferenza e come sacerdote non voleva accedere alla tentazione un giorno pregò tre volte una preghiera speciale a Maria Regina degli Angeli e immediatamente lo spirito di lussuria sparì poteva anche guardare questa donna tranquillamente non era rimasto proprio nulla si trattava di un angelo cattivo che influenzava la sua sessualità vi ho detto questo esempio solo per sottolineare che gli angeli hanno accesso alla nostra sessualità ed anche alla nostra immaginazione, ai nostri sogni sapete bene che San Giuseppe fece dei sogni e gli angeli gli parlarono attraverso i sogni perché fosse un buon pastore per la Sacra Famiglia durante la fuga in Egitto per esempio quando erano minacciati dal re Erode oppure quando l'angelo gli disse che il bambino che Maria portava in grembo era stato concepito dal Spirito Santo perciò gli angeli possono essere davvero presenti nei nostri sogni e l'arcangelo San Michele è particolarmente potente potete pregare novene a San Michele e lui vi sarà di grande aiuto per essere risanati nella vostra identità e nei vostri sentimenti originali gli angeli conoscono il piano di Dio per noi conoscono la nostra vocazione sanno quale è il sogno del Creatore su di noi lo vedono molto chiaramente e sono incaricati di aiutarci a vivere e a realizzare questa vocazione supponiamo che il Signore abbia preparato un bambino a fare il sacerdote l'angelo custode aiuterà il bambino fin dall'infanzia a evitare tutto ciò che potrebbe danneggiare la sua vocazione e lo guiderà in quella strada lo aiuterà a mantenersi puro e adorare Dio e ascoltare la sua parola facendo la sua volontà in modo di poter essere guidato fino al sacciadozio e a un sacciadozio santo mia madre quando era giovane pregava sempre il suo angelo custode per l'uomo che il Signore aveva in mente di darle come marito chiedendo all'angelo custode di protegerlo di guidarlo e lei pregava anche l'angelo custode di quell'uomo non sapeva che mio padre avrebbe dovuto passare tre anni in un campo di concentramento in Germania e che lui fu l'unico sopravvissuto della sua sezione mia madre lo incontrò dopo la guerra e si sposarono e quando mia madre disse a mio padre delle preghiere che aveva fatti ai due angeli custodi mio padre trasecolò perché lui pure aveva fatto la stessa cosa da parte sua c'è un piano di Dio per ognuna delle nostre vite e gli angeli custodiscono questo piano il loro compito è di aiutarci a realizzare questo piano in pienezza riportandoci a questo piano tutte le volte che ce ne allontaniamo così quando siamo incerti sulla nostra vocazione i nostri angeli custodi possono aiutarci moltissimo generalmente non li vediamo ma certamente sono al nostro fianco per aiutarci a rimanere ogni giorno sulla strada giusta possiamo pregare il nostro angelo custode anche perché ci liberi da altre influenze di demoni perché anche i demoni sono angeli e quando preghiamo il nostro angelo custode lui può davvero toccare la nostra immaginazione la nostra mente il nostro cuore i nostri sentimenti la nostra intelligenza e lui ci ama come ci ama Dio proprio i demoni invece lavorano continuamente per iniettare in noi il loro veleno con lo scopo ben preciso di perderci corpo e anima sono distruttori se viviamo nel peccato siamo circondati da demoni possiamo essere influenzati dai demoni perché hanno modo di penetrare in noi possono entrare nella stessa parte del nostro essere a cui ha accesso il nostro angelo custode l'immaginazione la volontà eccetera e queste ultime possono essere infettate dai demoni la nostra volontà può essere molto indebolita e perfino quasi annientata dai demoni essi confondono la nostra mente e creano false attrazioni nei nostri sentimenti nella nostra sessualità e ogni peccato apre una nuova porta ai demoni ovviamente dipende dalla gravità del peccato certo anche quando non siamo coscienti del pericolo e della realtà del peccato siamo vulnerabili ai demoni per esempio immaginate un ragazzino che gioca in casa e non conosce il pericolo che corre mettendo le dita nella presa di corrente non è colpa sua nessuno glielo ha detto ma poiché non sa che è un sbaglio lo fa e cosa succede? una scossa elettrica mortale la scossa mortale avviene anche se lui lo fa ignorando il pericolo è lo stesso per noi con il peccato prendo per esempio l'aborto se una ragazza non sa che è un peccato molto grave la sua responsabilità morale davanti a Dio non sarà la stessa ma il male dell'atto è lo stesso l'ignoranza non è mai stata una vertù vorrei dire qui qualche parola sui demoni quando Dio ha creato gli angeli erano tutti buoni ma anche per essi ha avuto luogo una prova perché nessuno arriva in cielo senza una scelta e una libera scelta quindi anche gli angeli che sono stati creati da Dio nella luce hanno dovuto scegliere di stare con Dio oppure no ed erano liberi di scegliere e quando siamo liberi di scegliere siamo liberi di dire di sì e siamo anche liberi di dire di no che razza di libertà esisterebbe se non ci fosse la possibilità di dire di no se qualcuno ti dice che ti vuole bene ma poi vieni a sapere che questa persona non aveva scelta ma doveva amarti che razza di amore sarebbe nessuno sarebbe riempito da questo amore ma se invece capisci che questa persona aveva cento possibilità di non amarti ed ha scelto di restare con te ed amarti allora sei convinto questo è vero amore amore e libertà vanno insieme non si possono separare non c'è amore senza libertà così Dio che ci ama in maniera perfetta aspetta che noi scegliamo liberamente di rimanere con Lui e questo è il motivo per cui c'è la prova quando Dio ha creato gli angeli essi erano liberi di sceglierlo e di essere d'accordo con i suoi piani o no perciò sono stati messi alla prova alcuni sono caduti e si sono opposti a Dio dicendo non serviamo e sono diventati nemici di Dio e quindi spiriti cattivi non c'è bene né luce dove non c'è Dio ma gli spiriti cattivi hanno mantenuto le caratteristiche della loro natura altri angeli hanno detto di sì alla volontà di Dio e al piano di Dio grazie a Dio ci sono questi angeli buoni il paragrafo 392 del catechismo della chiesa cattolica dice ascoltate bene la scrittura parla di un peccato di questi angeli tale caduta consiste nell'avere questi spiriti creati con libera scelta radicalmente e irrevocabilmente rifiutato Dio e il suo regno mamma mia questo è molto forte vedete che viene usata la parola irrevocabilmente ciò significa che gli angeli non hanno la possibilità di correggersi come facciamo noi esseri umani nel paragrafo successivo del catechismo numero 393 si spiega a far sì che il peccato degli angeli non possa essere perdonato è il carattere irrevocabile della loro scelta e non un difetto dell'infinita misericordia divina non c'è possibilità di pentimento per loro dopo la caduta come non c'è possibilità di pentimento per gli uomini dopo la morte perché vedete gli angeli non erano ciechi come noi contemplavano Dio ed è stato con piena coscienza che dissero no a Dio invece noi creature umane siamo ciechi non abbiamo la minima idea di cosa significhi rimanere nella piena luce di Dio per cui possiamo cambiare il nostro no in un sì durante la nostra vita sulla terra perciò durante la nostra vita possiamo sempre correggersi e pentirci ma quando arriviamo all'ultima ora giunge il momento in cui dobbiamo prendere la decisione finale per l'eternità quindi o scegliete Dio e gli chiedete perdono umilmente per i vostri peccati e ricevete la sua misericordia e allora entrate in paradiso forse purgatorio se avete bisogno di essere purificati oppure rifiutate Dio se dite tanti piccoli no a Dio tutta la vostra vita potreste anche rifiutare Dio l'ultimo momento e allora scegliete di stare senza di Lui per l'eternità e andare direttamente all'inferno se invece dite tanti piccoli sì durante la vita gli direte un grande sì quando lo vedrete a Medjugorje la Madonna ha detto ai veggenti quando mostro loro l'inferno e loro chiesero come può essere tutto questo dice la Madonna queste sono persone che hanno scelto di andare all'inferno liberamente con tutta la loro libertà una volta che siete in paradiso non potete andarvene non pensate neanche ad andarvene sarebbe così stupido anche in purgatorio la gente sa che ha ricevuto la salvezza e anche se soffrono moltissimo nella purificazione non verrebbero tornare sulla terra dove c'è tanta tenebra ma se siete all'inferno significa che non volete ricevere niente da Dio come l'ha spiegato la Madonna a Medjugorje perché lo odiate non è Dio che non ti vuole ma sei tu che non vuoi Dio lo odi il termine irrevocabilmente implica questo il rifiuto totale di Dio e della sua grazia per sempre vorrei leggervi un altro passo del Catechismo numero 391 perché spiega molto bene la caduta dei angeli ribelli ecco dietro la scelta disobbediente dei nostri progenitori c'è una voce seduttrice che si oppone a Dio la quale per invidia la fa cadere nella morte la scrittura vede in questo essere un angelo caduto chiamato Satana o Diavolo all'inizio era un angelo buono creato da Dio ma da sé stesso si è trasformato in malvagio ecco Lucifero era un angelo molto molto intelligente ma ha detto di no a Dio si è ribellato alla volontà di Dio e quindi è caduto lui aveva le stesse possibilità lo stesso carattere degli altri arcangeli ma ha usato tutto il suo potere contro Dio contro la creazione di Dio e contro le creature di Dio che siamo anche noi per questo ci dà la caccia a differenza del nostro angelo custode il suo compito è separarvi da Dio e sviarvi dalla volontà di Dio e del piano di Dio per la nostra vita e siamo circondati da migliaia di tipaci gli angeli cattivi quelli ribelli che cercano di separare l'umanità da Dio e a Medjugorje la Madonna ha detto Satana è forte e desidera distruggere non solo le creature umane ma anche tutta la natura e il pianeta su quale vivete perciò cari figli pregate attraverso la preghiera potete proteggervi con la benedizione di pace di Dio questo è il messaggio della Madonna e lei ha anche detto se sarete forti nella fede Satana non sarà in grado di farvi nulla permettetemi di spiegarvi cosa significa fede in ebraico la parola emunà in ebraico significa adesione adesione a Dio connessione essere una cosa sola con Dio essere una sola cosa con Dio e il diavolo è per eccellenza scollegato da Dio così quando abbiamo fede cioè siamo connessi a Dio siamo insieme con Dio cioè aderiamo a Dio il demonio non può nuocerci col permesso di Dio naturalmente ci conoscono e conoscono le nostre debolezze hanno la stessa intelligenza degli altri angeli anche loro sono molto intelligenti per questo è così importante non rivolgere la parola ai demoni se siete tormentati non parlare loro direttamente come ha fatto Eva nel giardino dell'Eden ed è caduta nel peccato credendo a ogni parola del serpente invece di avere a che fare solo con Dio perciò non parlate loro quando siete tormentati andate da Gesù andate da Maria e rivolgertevi a loro andate dal vostro angelo custode e chiedeteli di proteggervi dal maligno non parlate direttamente a Satana a meno che non siate un sacerdote esorcista rimareste invischiati a Medjugorje la Madonna dice dovete realizzare che Satana esiste distrugge i matrimoni crea divisione fra i sacerdoti ed è responsabile dei ossessioni ed assassini dovete proteggervi da queste cose con il digiuno e la preghiera specialmente preghiere di comunità portate adosso oggetti benedetti metteteli in casa vostra e riprendete l'uso dell'acqua benedetta ecco dovete sapere dell'esistenza dei demoni in modo da poterli combattere e opporvi a essi vedete il modo migliore per combatterli e per sconfiggerli è avere dentro di voi la potenza di Gesù e questo si ottiene attraverso la preghiera e attraverso il digiuno il rosario è un'arma incredibile contro Satana come ha detto Maria a Medjugorje pregando il rosario vi mettete sotto il manto della Madonna e Satana non è mai riuscito a toccarla se vi metterete sotto il suo manto sarete al sicuro ma allora dovete appartenerle in modo autentico in modo vero il che significa vivere i suoi messaggi vivere il Vangelo non solo con le parole ma con le opere la Madonna ha anche detto cari figli non permettete a Satana di prendere il controllo del vostro cuore diventereste una sua immagine invece di essere una immagine mia e inoltre dice non abbiate paura di Satana non vale la pena perché con una umile preghiera e un amore ardente lo si può disarmare ecco se siamo con Gesù e Maria non dobbiamo avere paura è lui Satana che avrà paura è terrorizzato anche da un bambino che prega invece se non siamo con Gesù e Maria se non siamo in grazia di Dio se pecchiamo allora si che dobbiamo avere paura di lui egli ha accesso a noi e ci farà del male per questo è bene andare a confessarci anche per coprire la nostra anima con il sangue di Cristo il sangue di Gesù ci purificherà dai nostri peccati in questo modo chiudiamo queste aperture nei confronti dei demoni allora sappiamo che gli angeli si dividono in nove ordini angeli arcangeli troni dominazioni principati potestà cherubini e serafini ogni ordine ha un compito ed una posizione diversa in paradiso c'è un angelo speciale naturalmente per ogni chiesa e questi angeli custodiscono la chiesa per esempio quando è esposto il santissimo da qualche parte e non c'è nessuno in giro nessuno va ad orare il santissimo ebbene sappiate che la madonna è sempre presente al conto al santissimo e adora Gesù è sempre con suo figlio ma c'è anche san michele arcangelo che è specialmente il custode dell'eucaristia di nuovo possiamo dire il mondo invisibile è così reale quando si celebra una messa migliaia di angeli sono al torno all'altare e celebrano la messa con la corte celeste non solo gli angeli e gli arcangeli sono presenti ma anche tutta la chiesa celeste la madonna è presente è presente a ogni messa ma sono presenti anche i santi e fra i santi trovate i santi della vostra famiglia se vostra madre è morta è in paradiso lei è presente è veramente meraviglioso quando la madonna parla dell'eucaristia dice se sapeste cari figli le grazie e i doni che ricevete durante la santa messa andreste tutti i giorni e vi preparereste per un'ora prima e ha detto invece cari figli quando siete alla messa siete inconsapevoli e come ragione lei siamo inconsapevoli di ciò che accade realmente sull'altare ma invece è così bello cominciare vendendo con gli occhi della fede con gli occhi del cuore è così bello è quindi molto importante che arriviamo in chiesa in anticipo prima dell'inizio della messa in modo da preparare il nostro cuore non solo a ricevere Gesù naturalmente e questa è la cosa più importante ma anche a metterci alla presenza di Dio alla presenza della corte celeste che sta qui per celebrare dal cielo questo mistero incredibile dell'eucaristia con noi con il sacerdote anche Papa Giovanni XXIII era entusiasta degli angeli e usava gli angeli per scopi importanti per esempio quando aveva un incontro importante con i cardinali con i vescovi con persone VIP diciamo così diceva agli amici attorno a sé per favore mandatemi il vostro angelo custode durante questo incontro e quando lui doveva incontrare qualcuno mandava avanti a sé il suo angelo custode che preparasse il cuore delle persone che doveva incontrare dite dite al vostro angelo custode ti ringrazio per il tuo aiuto sono molto felice della tua amicizia e della tua grazia speciale ringrazio Dio perché sei al mio fianco come mio migliore amico e sai vorrei che mi facessi un piccolo favore perché non vai in quella città a quell'incontro e non fai in modo per favore che tutto avvenga secondo la volontà di Dio possiamo parlare così perciò quando sapete per esempio che dovete incontrare una persona importante il vostro principale o chissà chiedete al vostro angelo custode di preparare il cuore di quella persona vedrete che funziona perfettamente se dovete comparire in tribunale e sapete di essere innocenti allora potete mandare il vostro angelo custode alla persona che vi farà da giudice o da avvocato potete mandare l'angelo custode alla persona che vi sta facendo causa dicendoli per favore calma questa persona è impedicile di farmi del male parlate in anticipo agli angeli custodi degli appuntamenti degli appuntamenti importanti vedrete i frutti quando dovete andare da qualche parte e non avete un posto in cui parcheggiare la vostra macchina è lui che libera un posto per voi sapete lui è lì gli angeli possono impedire incidenti posso confermarvi che il mio angelo custode mi ha salvato molte volte la vita sulla strada se siete ai suoi figli e ai suoi figli spirituali o alle persone che soffrivano negli ospedali o alle persone che dovevano fare una scelta e si sono molto potenti accade che talvolta nella scrittura vediamo alcune persone che hanno avuto a che fare con gli angeli e alla fine chiedono all'angelo come ti chiami per esempio lo vediamo nel libro di Tobia in questo libro l'angelo Raffaele diventa la guida e il compagno per Tobia nel suo viaggio lui guida Tobia da sua cugina Sara gli mostra la strada e lo fa restare nella strada giusta e guarisce anche gli occhi di Tobi e alla fine vediamo che Tobia gli chiede come ti chiami e lui risponde sono Raffaele e anche se sembrava un uomo disse la sua identità sono un angelo mi chiamo Raffaele sono uno dei sei angeli che entra e serve nella gloria di Dio perciò anche noi abbiamo la possibilità di sapere il nome del nostro angelo custode possiamo chiederlelo e talvolta il nostro angelo custode risponde ma non è automatico per quanto mi riguarda ho usato per anni il nome Raffaele sin da quando ero bambina ma poi un giorno gli ho chiesto è questo il tuo vero nome se non è il tuo vero nome rivelamelo per favore ma non l'ha mai fatto dunque mantengo questo nome a volte nella scrittura vediamo anche che viene fatta la domanda come ti chiami ma l'angelo risponde soltanto perché chiedi come mi chiamo e poi scompare non so perché alcuni dicono il loro nome altri no è così perciò non sappiamo con certezza se l'angelo custode dirà il suo nome o no ma possiamo provare mi piace dire alle persone provate loro dicono ma come posso provare vedete è facile parlateli diteli mio caro angelo se vuoi che ti chiami più facilmente dimmi il tuo nome rivelami il tuo nome e lui ha molti modi per rivelare il suo nome e per lo più questo avviene attraverso un sogno vi racconterò qui un episodio avvenuto nella mia comunità avevamo una sorella nella mia comunità una sorella molto brava una madre di famiglia non cantava mai durante la messa o durante una liturgia non sapeva proprio cantare per niente e le dispiaceva perché abbiamo tanti canti bellissimi e lei si sentiva esclusa allora un giorno ho avuto una conversazione sugli angeli con lei e lei ha detto no non ho mai chiesto il nome del mio angelo custode allora le ho detto chiediglielo allora quella sera prima di andare a letto lei ha pregato così l'angelo custode chiedendoli di rivelare il suo nome e la mattina dopo era tutta contenta ha detto soremanuele eh ho fatto un sogno e durante il sogno ho visto un vessillo e su quel vessillo c'era scritta una parola purtroppo purtroppo non riuscivo a capire questa parola le ho chiesto che parola era lei ha risposto la parola era scritta in modo molto chiaro era shofar e poi ho detto wow sapevo che in ebraico il shofar è lo strumento usato dai leviti a Gerusalemme e da chi si occupa della liturgia del tempio è come un corno un corno di un animale è vuoto all'interno e quando lo suoni emette un suono incredibile molto grave molto profondo serviva per avvertire gli ebrei di Gerusalemme che era l'ora della preghiera nel tempio e tutti sanno a Gerusalemme quando è Shabbat o quando c'è qualche altra grande festa usano un corno detto shofar e nella scrittura possiamo trovare i passi che parlano dello shofar lo strumento per lodare Dio lo strumento della preghiera lo strumento della liturgia era incredibile gliel'ho spiegato possiamo dire che il nome del nostro angelo custode è una indicazione della nostra vocazione anche allora lei era così contenta ed entusiasta e le ho detto è un segno per te cara perché anche tu devi partecipare alla liturgia e ricevi questo dono della musica dal tuo angelo custode pregalo perché ti aiuti a cantare beh potete indovinare che il giorno dopo contava perfettamente vedete era stato chiesto all'angelo di svolgere quel compito di aiutarla e l'angelo non si chiamava shofar per caso ciò significa che lui stava davanti a Dio fra i musicisti perché in cielo esistono luoghi e ruoli e ruoli diversi e nell'incredibile corte del cielo ciascuno ha un ruolo e questo angelo partecipava alla liturgia si chiamava shofar ebbene quando pensate di avere scoperto il nome del vostro angelo se capite il nome bene accettatelo se non capite quel nome non usatelo non usate un nome che non conoscete che non capite perché perché il nemico cerca sempre di imitare quello che fa Dio anche i demoni hanno dei nomi e in alcune pratiche che sono sbagliate per esempio nello yoga nella meditazione trascendentale nella stregoneria nella divinazione in tutti i tipi di cose sbagliate che sono abomini agli occhi di Dio potete anche ricevere un nome talvolta lo chiamano mantra è un nome che in qualche modo dovete ripetere costantemente e potrebbe anche essere una frase non usate mai nessun mantra datemi retta e qui voglio raccontare una storia di un mio amico dell'università di Notre Dame in Stati Uniti quella università doveva diffondere la fede cattolica in questa università però c'era un dipartimento di meditazione trascendentale una cosa molto negativa non praticatela ma questo dipartimento esisteva lì era offerto agli studenti il mio amico ci andò perché faceva parte dell'università non era stato messo in guardia contro questa meditazione e allora durante le nove settimane del corso di meditazione trascendentale le persone si aprivano agli spiriti in una speciale cerimonia in sanscrito e ricevevano una parola e a lui venne data una parola un mantra diciamo il professore diceva ripetete questa parola in continuazione e lui lo faceva e il professore gli diceva non dire a nessuno questa parola tienila per te è un secreto devo dire che questo mio amico non era molto cauto molto prudente e lui ripeteva continualmente questo mantra dentro di sé allora un giorno per grazia di Dio un buon amico suo cristiano lo aiutò e poi un giorno durante la confessione disse al sacerdote sono davvero tormentato la mia vita è un pasticcio ho mandato in frantumi la mia famiglia poi disse al prete pratico la meditazione trascendentale e il professore mi ha detto che io ho un mantra e lo uso allora il prete le disse qual è il nome di chi ti ha dato non posso dirtelo è un secreto dice il mio amico ah un secreto pensi che sia una cosa buona infatti chi è che opera nelle tenebre chi ha bisogno delle tenebre per lavorare eh satana certo lui non può operare nella luce perché ha paura che la sua opera sia rivelata e sia conosciuta perciò ha bisogno della segretezza ha bisogno del buio per lavorare e perciò che il sacerdote disse dimmi questo nome voglio saperlo perché forse è un nome sbagliato perciò il mio amico disse il mantra al sacerdote e indovinate un po' il significato di quel nome faceva capire che era il nome di un demone gli era stato dato il nome di un demone e certamente il demone che era chiamato continualmente attraverso il mantra arrivava arrivava quando chiamate i demoni loro arrivano sono fin troppo contenti di venire a farvi del male ecco perciò non usate mai un nome che non conoscete potrebbe essere un nome buono ma è più prudente evitarlo se non conoscete il significato per lo più ho notato che quando le persone chiedono il nome del loro angelo custode l'angelo custode ha un nome che fa parte della lingua ebraica molto spesso perciò se non capite il nome andate da qualcuno che conosce l'ebraico o l'aramaico e accettatevi che sia il nome di qualcuno che serve Dio fatemi terminare con qualcosa di bello di molto bello che avvenne proprio dopo la festa degli angeli custodi diciamo il 2 di ottobre la veggente Maria Pavlovich ha ricevuto dalla Madonna subito dopo l'apparizione giornaliera dei compiti da fare a casa e all'amica che era con lei sembrò un po' perplessa Maria condivise all'amica quello che l'aveva detto la Madonna era così oggi chiedo a tutti voi presenti nella stanza erano c'erano 5 persone di fare amicizia con il vostro angelo custode e di cercare il suo aiuto vi chiedo anche di scrivergli una lettera e di portarmela domani e così le amiche erano un po' perplesse perché non avevano mai fatto una cosa simile e qualcuna di esse non aveva neanche mai pensato di avere un angelo custode però ognuna fece uno sforzo e il giorno dopo avevano le lettere da dare alla Madonna tramite Maria Pavlovich quando Maria Santissima apparve quel giorno era in compagnia di 5 angeli così Maria Pavlovich pensò che fossero il loro angeli custodi allora dopo aver consegnato le loro lettere le due amiche erano entusiasti degli angeli e fecero tutto il possibile per crearsi una relazione con loro cominciarono a parlare a loro a cercare nelle scritture quello che si diceva di loro e dopo poco tempo erano veramente felicissime di una vera amicizia con i loro angeli custodi allora chiedevano loro dei servizi favori missioni li inviavano qua e là li utilizzavano e confidavano in loro e nel loro aiuto così penso che quello che Maria Santissima ha detto a loro potrebbe dirlo anche a voi e quindi vi invito a scrivere anche voi una lettera al vostro angelo custode e mettere questa lettera sotto una incona o sotto una statuetta della Madonna penso che lei ne sarà molto felice e dopo potete tenere la lettera oppure bruciarla come volete ma per favore fate amicità con il vostro angelo custode e chiedeteli di aiutarvi cambierà la vostra vita il vostro angelo custode manifesterà il suo amore per voi la sua cura e la sua potenza è lui che porta le vostre preghiere a Dio e anche lui che vi porta le grazie di Dio lo sapete bene molte persone oggi soffrono di solitudine ma non si sentirebbero sole se fossero in relazione con un amico che è continualmente al loro fianco e che è reale anche se invisibile veramente ve lo assicuro se fate amicizia con il vostro angelo custode avrete molte esperienze da condividere in famiglia e loro a loro volta potranno iniziare una nuova amicizia con i loro angeli custodi e la cosa si diffonderà non c'è nulla di più triste di un angelo custode che siede in un angolo disoccupato e vedete in questo mondo in cui c'è tanto male tanta violenza tanto odio anche satanismo in cui il maligno agisce moltissimo noi cristiani siamo incaricati in modo speciale di pregare il nostro angelo custode e tutti gli angeli in modo che ripristino la pace del vostro mondo del vostro paese in modo che il vostro paese possa vivere e realizzare la missione bellissima che Dio gli ha dato voi siete gli operai le mani di Dio per promuovere questo e per collaborare con i vostri angeli e i vostri angeli custodi Allora possiamo adesso dedicare qualche minuto al silenzio e alla preghiera coloro che vogliono chi lo desidera per parlare all'angelo custode salutarlo ringraziarlo e durante questa minuta di silenzio chiedeteli di manifestarsi a voi e anche di dirvi il suo nome prendiamo adesso qualche minuto per entrare in rapporto con lui nella preghiera vedete cosa succede in seguito chiuderemo quindi gli occhi chi vuole anche può inginocchiarsi dunque abbiamo questo tempo di preghiera per fare amicizia con il nostro angelo custode e anche per ringraziare la regina dei angeli e anche per ricordarci di questa meravigliosa realtà della creazione di Dio gli angeli ringraziamo adesso il creatore degli angeli che ci ha dato angeli bellissimi al nostro fianco ringraziare Grazie a tutti